buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi lunedì 30 gennaio 2023 vediamo subito qual è l'almanacco del giorno per poi relazionarvi su tutte le notizie che appaiono sui giornali questa mattina come sempre il resto del carlino e il corriere adriatico vediamo il santo del giorno e santa martina santa martina vergine e martire visse nel secondo terzo secolo di famiglia ricca fattasi cristiana cominciò a distribuire i suoi averi ai poveri ciò insospettì le autorità dell'imprenditore che la arrestarono come seguace del nazareno ebbene i martiri le torture a cui fu sottoposto a martina furono veramente atroce fu torturata perché sacrificasse agli dèi ma lei non lo fece battuta con le verghe scarnificata con gli uncini esposta alle belve nell'anfiteatro risparmiata dalle fiamme del rogo alla fine fu decapitata e questo è la fine di questa povera ragazza regnava allora alessandro severo martina fu sepolta nel carcere mammertino che ancora oggi esiste nei pressi del foro romano ovviamente nella capitale e vediamo anche le previsioni del tempo vediamo che il tempo è è radicalmente cambiato rispetto alla settimana scorsa sulla nostra regione è tornato il bel tempo con ampi spazi di cielo sereno pur con locali velature in transito le massime sono in lieve aumento le minime sono di 2 gradi le massime 10 gradi i venti sulle coste ispireranno da una direzione da ovest nell'interno invece con una tensione media da ovest sud ovest e le temperature sono ancora in calo comunque la temperatura è minime di 2 gradi ci dice che siamo in pieno inverno ci ho detto apriamo il giornale corriere adriatico sulla pagina di fano questa mattina e vediamo che si parla della variante di gimarra questa benedetta variante che desta tante tante polemiche ebbene il progetto per la variante va invece spedito insomma l'amministrazione comunale corre c'è una verifica preventiva è stato affidato l'incarico un'azienda specializzata di milano sarà al lavoro per verificare che tutto proceda nel modo giusto c'è poco tempo questa volta non si possono commettere errori e la scadenza per la concessione dei lavori è fissata al 30 giugno prossimo e se si incontrassero degli intoppi questa volta si perderebbe veramente il finanziamento quei 20 milioni che sono stati devoluti dalla regione a cui il comune ha aggiunto altri 5 milioni per poter usufruire di questo di questo prolungamento perché altrimenti non avendo concesso i lavori entro il 31 dicembre scorso avrebbe perso tutti i contributi il costo dell'opera è stimato in 25 milioni di cui 5 finanziati dal bilancio del comune e la ditta a cui è stato affidato l'incarico di questa verifica è la Conteco CEC SRL di Milano dunque una verifica preventiva l'incarico non è molto costoso si aggira sui 7 mila euro la ditta ha fatto un congruo ribasso durante la gara d'appalto per ricevere appunto questo incarico l'importo a base d'asta era di 11 mila euro insomma col 50% si è arrivata lei ne prenderà circa 5 mila perché poi ci sono anche delle spese fisse come l'iva come altre spese che vengono caricate sull'importo che riceverà appunto la ditta affitti in scadenza i contributi delle comune e l'assessore comunale al welfare dimitri tinti che avverte la popolazione che sono aperti termini fino al prossimo 17 febbraio per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2022 ormai credo che sappiate tutti che cosa sono gli inquilini morosi incolpevoli sono quelli inquilini che hanno sempre pagato regolarmente l'affitto ma poi per una sopravvenienza improvvisa quale la perdita del lavoro oppure una malattia non sono più riusciti ad onorare il proprio contratto insomma hanno cercato di farlo finché hanno potuto e poi non sono più riusciti e a costoro l'amministrazione comunale viene incontro con le proprie risorse quindi non saranno sfrattati almeno per un po' fin quanto non riusciranno a almeno fino a quando insomma avranno questi contributi per ritornare in sesto e quindi ritornare nel giusto rapporto con il proprietario di casa vediamo anche una foto notizia che ci dà la comunicazione che il dottor gabriele frausini che è stato a 22 anni il primario di medicina dell'ospedale marche nord è andato in pensione e ora ha assunto il ruolo di direttore del centro medico arcadia giriamo la pagina e vediamo che siamo a cartoceto in questo caso vediamo una dichiarazione del sindaco enrico rossi per quanto riguarda il settore privilegiato su cui dovrebbe dovrebbero giungere i contributi del pnrr e qual è questo settore è il dissesto idrogeologico del territorio insomma il nostro territorio è molto molto fragile alluvioni esondazioni frane insomma ci sono problemi che consistono veramente che poi determinano molti molti danni ecco perché secondo enrico rossi il pnrr dovrebbe aiutare le amministrazioni comunali oppure gli altri enti a intervenire per consolidare il nostro territorio e tutelare ovviamente l'ambiente l'assessore e barbara brunori invece ci parla del servizio civile dei giovani sono 28 i progetti che sono in atto in questo momento e che possono così ottenere l'interesse di coloro che vogliono fare questa bella io dico esperienza un'esperienza di solidarietà ma anche di maturazione civile fino a venerdì 10 febbraio i giovani possono presentare la domanda per il servizio civile per chi non lo conoscesse il servizio è un progetto a servizio della comunità che dona sia formazione professionale che crescita individuale quindi un'esperienza molto bella da fare chi fosse interessato c'è anche un rimborso economico non è tanto parla di 444 euro al mese però insomma quello che arricchisce non è il denaro è quello che arricchisce l'esperienza che si fa a favore degli altri passiamo a mondolfo passiamo a mondolfo perché vediamo che si è costituito il gruppo sferistico è un gruppo che si dedica alla coltivazione di uno sport che era caduto in disuso ma non a mondolfo quale il pallone al bracciale e quale il tamburello ebbene una vera e riassemblea pubblica rifondativa ha costituito a mondolfo questo nuovo gruppo un trampolino verso la gloria per la regia di piero barazzoni e soggetto di luca sorcinelli beh uno sport che è molto bello e che fa molto colore locale a chi lo coltiva e poi dalla memoria al ricordo gli orrori della storia gli studenti continuano a celebrare il giorno della memoria quello dell'olocausto della shoah in ricordo degli orrori che furono compiuti durante il periodo nazista gli allunni di mondolfo preparano elaborati su shoah e foibe un crescita culturale molto importante vediamo anche la pagina di senigallia la tassa di soggiorno non si tocca lo dicono gli albergatori perché altrimenti si incentiva la fuga dei turisti dove si paga molta tassa di soggiorno i turisti ovviamente non vanno non vengono preferiscono andare in quelle località dove la tassa è più mite diciamo così è più leggera albergatori contro la proposta di campanile che è stata fatta in consiglio comunale e poi c'è una sorpresa la presenza di valentino rossi alla taverna dei guelfi il fatto che valentino rossi abbia scelto di trascorrere il sabato sera a senigallia rappresenta un messaggio positivo per una città che ha sofferto molto per l'alluvione e la presenza di valentino rossi attira sempre attenzione e quindi fa molta promozione e per una città sfortunata diciamo così molto coinvolta dal dissesto idrogeologico di cui abbiamo parlato poc'anzi è una risorsa importante comunque la tassa di soggiorno non deve essere aumentata deve restare quella che è hanno affermato gli albergatori a fondo pagina di senigallia vediamo un arresto di cronaca vede i carabinieri getta lo spinello un 22 anni e nei guai è stato denunciato dai carabinieri un senegalese residente a Mondavio per aver fornito false generalità durante un controllo il ragazzo è stato inoltre segnalato in prefettura come assuntore di droga i militari della compagnia di senigallia stanno incentivando i controlli in modo particolare per l'abuso di alcol e per lo spaccio degli stupefacenti ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi vediamo che si parla soprattutto di decoro sotto la galleria Roma come tanti accampati basta con i bivacchi protestano i commercianti e i residenti arriva al sì per riqualificare il complesso scritte persone che dormono anche d'inverno sotto la galleria arredi che vengono deturpati regna da troppo tempo il caos in uno spazio tra la galleria Roma via Curiel e via delle contramine a Pesaro residenti e titolari di attività sono stanchi di continui rimpalli di responsabilità chi deve intervenire per curare il decoro e il decoro per una città che si appresta a diventare capitale della cultura nel 2024 è un traguardo importante avere dei muri puliti e dei sottopassi in ordine dei portici puliti costituisce ormai un impegno che non deve essere disatteso basta con la sporcizia e la vernice rossa e lo sportello è un successo altra che forma di debolezza lo dice l'assessore Frenquellucci che risponde alle critiche ricevute dalla opposizione per quanto riguarda questo contatto diretto con i cittadini da cui si apprendono segnalazioni, proteste anche in modo che la città possa essere oggetto di interventi mirati e non così generalizzati che poi lasciano il tempo che trovano sono queste le segnalazioni giuste che giungono dai cittadini i quali incontrano direttamente a tu per tu l'assessore competente Trattore speciale per Alessandro Carloni mobilita gli imprenditori si parla di Mirko Carloni il parlamentare, il deputato Mirko Carloni fanese che già si è segnalato non l'ha fatto così con evidenza tanto per darsi delle arie lo ha fatto anche in sordina si è occupato del piccolo bambino di Anastasia la ragazza che è stata uccisa dal marito la cui Salma è tornata in Ucraina e anche il bambino è tornato con la nonna nella sua città natale ebbene dopo questo episodio di solidarietà Carloni ora si mobilita per riuscire a dare un trattore un trattore all'agricolo Alessandro Monetti all'agricoltore Alessandro Monetti che è diventato disabile ed è un suo sogno di vita quello di poter guidare ancora una volta un trattore un trattore speciale e Mirko Carloni come presidente della commissione parlamentare dedica all'agricoltura riesce a così riunire tutti i produttori di mezzi agricoli affinché possano praticare un prezzo più abbordabile per dare la possibilità a questo ragazzo di aprirsi a una nuova vita dopo la disabilità che l'ha colpito e parliamo del maltempo che per alcuni è un buon tempo ovvero quello della neve sciatori all'assalto delle piste un weekend da tutto esaurito da mezzogiorno impossibile salire sul Catria bene anche gli impianti di Nerone e Carpegna c'è stato un vero e proprio sold out in questo fine settimana dal Monte Catria al Carpegna passando per il Nerone è stato un weekend da tutto esaurito nei comprensori sciistici del Pesarese e in quelli che si trovano al confine tra Marche e Romagna quindi un'importante occasione di divertimento per chi ama lo sci e soprattutto di restauro del bilancio per coloro che gestiscono appunto le sciovie San Bartolo San Bartolo con l'ammareggiata la spiaggia diventa pattumiera tante plastiche non smaltibili recuperate due tartarughe ma una non ce l'ha fatta un articolo che riguarda il dissesto ambientale anche in questo verso il mare è ormai ingrossato da tutte le mareggiate è ormai diventato pattumiera di tutti i rami le ramagli gli alberi che i fiumi trasportano dalle loro rive poi li trascinano in mare e il mare le riversa sulla spiaggia e vediamo qui dopo tutto quello che si riporta sulla spiaggia non solo rami non solo alberi ma anche plastiche rifiuti che vengono gettati in mare le mareggiate dei giorni scorsi hanno fatto grossi danni lungo la costa che ora sono ben visibili e vengono documentati dalle foto pubblicate dal Corriere Adriatico vediamo anche la pagina di Urbino si parla di una frana l'acquedotto è riparato resta solo l'isolamento da internet rapido intervento di marche multiservizi insieme all'ANAS per lo smottamento di Mazzaferro per fortuna è stata riparata e quindi non ci sono problemi per la viabilità diamo un'occhiata anche al resto del Carlino vediamo la sintesi che il giornale fa per le notizie della nostra regione sulla prima pagina sulla provincia di Pesaro si mette in evidenza un incontro con i lupi faccia a faccia con sette lupi paura per un quarantanovenne il branco è stato avvistato a pochi metri dalla propria abitazione sono diventati troppi ha dichiarato l'uomo la popolazione va controllata vedremo poi in particolare questo articolo e poi tra Novilara e Candelara è in vendita una bellissima villa quella di Filippo Benelli e Morbidelli una bellissima villa incastonata in un contesto ambientale veramente prestigioso e poi si parla ancora di decoro anche sul resto del Carlino per quanto riguarda Pesaro centro muri imbrattati e strade proibite SOS degrado in centro storico vediamo le altre province ad Ancona truffe post pay sgominata la banda 5 i denunciati e poi il resto del Carlino fa un'inchiesta sulle buche sulle buche tra le aree critiche della città d'Orica archi piano e porto queste sono un po' le zone dove viene evidenzato questo dissesto Senigallia allarme budget la consigliera Pagani il festival del giallo rischia di scomparire ed è questa una delle iniziative di attrazione più importanti della città di Senigallia macerata macerata striscioni e appelli e la città ricorda Pamela la ragazza che è stata barbaramente uccisa vogliamo giustizia hanno detto i cittadini le commemorazioni sono state effettuate in via Spalato e nei giardini Diaz oggi l'iniziativa del comune a 5 anni dal feroce delitto ad Ascoli e a Fermo vediamo che si parla di seconde case gli stranieri preferiscono le zone di Piceno e del Fermano e poi le sfide dell'economia imprese in calo nel 2022 ma ripartono le start up e questo è un segno di fiducia per le iniziative che assumono in modo particolare i giovani un episodio di cronaca rogo alla Baccheri la Cigelle si mobilita ora occorre un piano industriale ha dichiarato il sindacato e poi il direttore di Capodarco questa importante iniziativa struttura di solidarietà l'invito di Sollini contratti brevi e poco pagati il sociale va ripensato ha dichiarato vediamo ora qualche notizia che riguarda la provincia di Pesaro e vediamo come l'articolo che si interessa del degrado viene supportato da molte fotografie che sono molto più significative magari del testo vediamo qui scritte sui muri in tutti i sensi veramente una sopra l'altra con un disordine che fa caos e confusione ma vediamo anche dissesti per quanto riguarda porta biciclette che vengono deturpati anche qui vediamo la superficie stradale che è dissestata e anche qua materassi e bottiglie abbandonati in via Giordani con gli affreschi nello sfondo insomma anche questo è segno di degrado e vediamo anche la villa che sta per essere messa in vendita è la villa di Filippo Benelli e poi di Morbidelli è una villa da sogno si compra per 3 milioni e mezzo ebbene chi ha queste risorse può appropriarsi di questo bene guardate che bella fotografia la villa incastonata con piscina in un contesto verde veramente molto bello beato chi se lo può permettere tartarughe travolte dalle onde una si salva il dissesto di cui abbiamo parlato sotto il monte San Bartolo e poi barche la proposta del consigliere regionale Biancani concessioni più ampie per abbattere i costi in attesa di capire cosa accadrà tra qualche giorno con il cantiere per l'edificazione degli 80 appartamenti al porto va avanti il problema delle concessioni e quindi lo sfruttamento della nuova D'Assena con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20.30 nel TG di Occhio alla Notizia di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci a ris顯 di Fano TV